Tuo figlio dipende da te la sua sicurezza, il suo sonno, le cose che impara, le cose che mangia e come crescerà dipende da te. Mettere di frutta Zueg perché gli piace e perché sei sicura che Zueg è buona frutta, zucchero e vitamine. Mettere di frutta Zueg perché tuo figlio dipende da te. Zueg mi è simpatico.